E' in corso fino a tutto domani negli spazi espositivi della Toscana Fair di Via Bonellina, l'undicesima edizione di Toscana Fashion, la fiera campionaria delle calzature con le migliori proposte per la stagione autunno-inverno 2022. Sono in tutto 27 gli agenti di commercio presenti e oltre 150 i campionari esposti fra borse, scarpe donna, uomo e bambino di ogni genere, dallo sportivo alla calzatura da sera. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Toscana Fashion e da ConfCommercio con il patrocinio di Federazione Moda Italia e Federazione Nazionale Associazioni, agenti e rappresentanti di commercio. Tante le aspettative del settore nonostante le incognite legate agli eventi bellici in Ucraina e alle sanzioni e controsanzioni che riguardano il mercato russo e non solo. Le adesioni sono state molteplici, per questo ci dà speranza proprio per il futuro. Per quanto riguarda le incognite che stiamo vivendo, non possiamo nascondere il fatto che la preoccupazione è alta. Ci auguriamo che non ci sia un ulteriore escalation nell'est Europa, in modo che possiamo guardare con fiducia al futuro di una ripresa del commercio i cui primi frutti si iniziavano già a vedere nel post-pandemia, ma che purtroppo i tragici eventi a cui stiamo assistendo stanno un po' frenando. 150 sono i marchi che vengono esposti, ma poi con un anche ampliamento dell'offerta, quindi non soltanto scarpe, ma c'è una crescita delle aziende esposte per quanto riguardano gli accessori, in particolare le borsi. Dietro questo mondo ci sono aziende che sono le eccellenze italiane, nel brand della moda, delle scarpe, quindi la vita deve riprendere a pieno e soprattutto per quelle aziende che sono il cielo d'occhiato per l'Italia.